Allora, siamo con Marta Schifone, deputata Fratella d'Italia, prima firmataria di una proposta di legge per istituire la settimana nazionale delle materie STEM. Perché è necessario sensibilizzare su questo tema? Riteniamo che le materie STEM siano strategiche per il mercato del lavoro, per le professioni del futuro, per le generazioni del futuro. Sono un insieme delle discipline tecnico-scientifiche, molto spesso dimenticate e che hanno grossa difficoltà nell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Ovvero, c'è molta richiesta di queste competenze, di questi profili, ma sono anche le meno appetibili e le meno scelte dagli studenti. Quindi noi con questa proposta di legge ci proponiamo di promulgare, di divulgare, di promuovere l'importanza di queste materie proprio perché più, quanti più studenti nelle scuole e nelle università scelgano queste materie perché hanno un grosso carico di opportunità e una grande leva occupazionale. C'è anche una questione di gap di genere? Molto importante, perché sempre meno donne scelgono le materie scientifiche che molto spesso vengono erroneamente ritenute poco attraenti, un po' noiose o poco adatte per le donne. Noi riteniamo che ci sia un pregiudizio alla base, che ci siano degli stereotipi alla base che vanno completamente combattuti perché è un messaggio culturale molto importante che le donne possono e devono scegliere queste materie perché ci sono appunto grandissime opportunità e quindi dobbiamo assolutamente promuovere modelli di ruolo e abbattere qualsiasi tipo di pregiudizio.